Firmani Mr. Tammuri Tammuri Gold Vicenza Soltanto riuscissi io a fare sti gol così Amici, un saluto da Jack, Leon e Max Benvenuti e bentrovati con me Oggi riprendiamo la rete o carriera del Baris Ufilo 2001 E come dicevo la volta scorsa Siamo a un buon punto Abbiamo un bel vantaggio E affrontiamo il Vicenza Il mio Vicenza del FIFA 99 Vediamo quale delle due squadre trionferà oggi Vicenza farrà di tutto per farsi valere Ma siamo pronti Siamo pronti Questo è un Bari interessante Ho messo Sebschenko in attacco Stiamo provando a mettere Sebschenko titolare A vedere come se la cava Visto che abbiamo poi tolto Spinesi Felice che siate con noi per questa partita di campionato Tra Bari e Vicenza Il mio secondo commentatore Massimo Caputi Prende posizione in questo momento Canto a me È fantastico stare qui con uno stadio pieno Giacomo Avremo un sacco di rumore qui Se il calcio giocato sarà minimamente bello Speriamo Delle camera televisiva Zoom al bacio Palo Palla sul palo e fuori Pallone rinviato in profondità Attenzione Pericolo Poi si fa il portiere Via 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 Non facciamo papere A inizio la partita Viviani Zauli Vicenza Grazie Giacomo 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 1-0 per l'ufficienza finalmente per loro ma che sta disegno sti cori sono contro la sede Ronaldinho ragagnolo blocca Ronaldinho senza problemi faccio è stata facilissima Ronaldinho chi? sono bregagnolo non era eh Ronaldinho segna Ronaldinho bregagnolo 1-1 la rivista di Ronaldinho e adesso siamo a punteggio base vediamoci da fare si lo so gli ruba la palla la ti sputa Firmani Zauli ops portiere sollevato nel vedere la palla che sorvola la traversa buon passaggio la ti sputa una difesa disordinata meno male per noi se è scenco attenzione il vamp niente da fare si fa vedere ma non fa nulla ecco un bel passaggio in avanti zauli progetto vampeta è la mascotte della squadra teniamo per quello no guarda che qualcosa di utile l'ha fatto anche lui eh firmani attenzione Luizio di nuovo via 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 ah sto Vicenza si fa un valere Jack gioca a FIFA 99 vai avanti questa carriera ci vado avanti ci vado avanti non capisco cosa dicono ma la situazione non è un coro italiano palla passata in avanti mi hai fatto fatica a fermare Mirabellini sono scenco si bel passaggio si bel passaggio bellissimo infatti si visto però il grande per batistuta mamma mia cattiveria Bragagnolo ferma Bragagnolo che pensa batistuta mi ha fatto io ho fatto io ho fatto Ronaldini ho fatto battistuta tutto tranquillo intuisse il passaggio e ruba la palla MVP Bragagnolo no Luizio no ha segnato il nuovo Luizio gol palla in rete pubblico invisibilio pubblico invisibilio io sono sterrefato non è quel tipo di partita che voglio perdere batistuta non c'è nessuna partita che voglio perdere gol di Sheva ma quanto è bella questa partita ma quanto è bello questo gol di Sheva quanto è bello tutto ciò che stiamo facendo squadra e pare l'intervallo con due reti per parte la tua opinione fino ad ora Massimo stanno combattendo centimetro per centimetro in questa partita si sono divise il possesso tutto vero mi spiace che ho postato sopra comunque i giocatori sono di nuovo in campo pronti a giocare il secondo tempo vabbè è il momento in cui invito chi vuole chi può a lasciare un like al video per supportare il video il progetto il canale è un piccolo gesto ma un grandissimo contributo è come il gioco contribuisce a dare un uiso tiro one shot con gol ma che ca**o ma che ca**o senza parole ma potrebbe ancora succedere di tutto speriamo ma lo pesi è fatta dai è fatta c'è scenco cross fallo riescono a rinviare fuori area caravaggio perché la spazza così ho avuto x perché me la tiri alta con x da quando ho perso il possesso di palla ok ci siamo bel grosso grande caravaggio battistuta la dà per ronaldinio che era qua non si era il classo battistuta oh portiere bregagnolo visto battistuta è beccato il portiere sbagliato battistuta c'è un bregagnolo ti batta no battistuta per otta che tiro segnava questo era il bollio del seco il bollio del millennio si ha perdendo ecco quando si perde si fanno due cose la prima cosa è l'Igm l'Igm quindi andiamo giù no 4-3-3 non toccate queste cose mettiamo l'attacco mettiamo l'attacco altro no l'altra cosa spingiamo e poi l'altra cosa vediamo purtroppo mi spiace dire un Ronaldinho fuori forma mettiamo Philemon Mazinga il bomberone Mazinga per tornare in campo per fare miracoli assolutamente Mr. Tamburini questo è un bel passaggio ma non di molto conta solo che non lo andiamo a fare il rosa primo e probabilmente l'ultimo cambio ma ti stunta da qua dai ragazzi sono passato da giocare per tre punti a giocare per un punto anche lì se lo scende la butterà al centro dai 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 ci siamo passa in avanti grande va bene lo sfondo Mazinga bomberone Sonsenco 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 deve assolutamente crossare vai battistuta su ti sto perdendo ancora io Mazinga 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 la qua ragazzi un po' pericoloso la posizionamento non era da dove veniva Zauli da solo motoportiere ragazzi io non lo so hanno reso Zauli il fenomeno del giorno ma che roba 4 gol Mazinga Sonsenco aumentano il vantaggio siamo sul 4 a 2 come sempre accetto rispetto al perdetto del campo come giusto non sia non mi lamenterò mi dirò è stata ingiusta finisce con la palla e continuerò ad attaccare il fido più colunitore di quelli che sono passati oggi va dai e sì mi lamenterò quando vogliono segnare questo è ovvio schienardi bel tocco del difensore parruccio sì bella palla ormai si è arrenata la partita facciamoli fare sto cross ribatte di testa a morire il portiere riesce a deviare devo dire oggi prestazioni indecente in spesso di il nostro quartiere fa sempre bene ma oggi fermo ecco il fisco finale il punteggio resta di 4 a 2 deve essere molto duro per l'allenatore i suoi giocatori non sono riusciti a riprendersi da aver subito quel gol iniziale è una bellissima partita ma è finita male ma non è ha fatto tutti i gol l'ultima ha fatto Zauli 3 gol di Luiso 1 di Zauli l'amoroso è finita malissimo ma eravamo qui in un campionato abbiamo buttato alle antiche una bellissima possibilità di essere ancora più primi ma va bene succede in realtà succede in realtà succede davvero questa cosa che stai per avere una grande occasione di staccare gli altri e non ce la fai e non siamo più primi ma siamo primi ma non siamo primi siamo primi perché hanno una metà in più Inter e Nurel perciò se vinciamo e affronteremo Lecce quindi derby di Puglia vediamo un po' com'è andata Parma-Inter 1-2 Verona-Perugia 3-2 Lazio-Fiorettino 1-1 Torino-Venezia 2-2 Reggina-Roma 3-4 Juventus-Lecce 0-1 Cagliari-Lecce Bologna 2-3 Venezia-Perugia 0-1 Torino-Juventus 0-1 Bologna-Reggina 0-0 Parma-Milani 1-2 Vicenza-Lazio 2-3 Inter-Roma 1-0 Attenzione perché questi Inter e Milani sono strepitose la Parma perde colpi ma non gravemente beh detto questo vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima speriamo di migliorare i risultati le prossime partite ciao